furti nelle casette in piazza del popolo individuato il ladro dalla regione un maxi contributo per gli asili 0 6 anni 4 architetti uniti per salvare l'edificio della provincia domani partono i saldi invernali si prevede una crescita rispetto al 2023 doppia festa tra megabox e bergamo sabato il passaggio di consegne tra le capitali della cultura una buona serata i telespettatori di rossini tv ben ritrovati in visione di rossini usi il nostro tg telegiornale di oggi giovedì 4 gennaio 2024 che apriamo con una notizia di cronaca in merito ai furti avvenuti la notte del 2 gennaio ai danni degli ambulanti delle casette di legno installate in piazza del popolo non si è fatta attendere la risposta della polizia di stato che ne ha immediatamente individuato l'autore le indagini condotte dalla squadra mobile hanno permesso di identificare subito l'autore dei furti e di sottoporlo a perquisizione d'intesa con la locale procura della repubblica il malvivente nella notte tra il primo e il 2 gennaio ha messo a segno un audace colpo scassinando otto cassette installate in piazza il ladro è riuscito a entrare in cinque di queste casette appropriandosi di una borsa in pelle e di ben 500 euro l'attività svolta dalle forze dell'ordine ha permesso il sequestro della borsa sottratta degli strumenti usati per le frazioni del monopattino a bordo del quale il soggetto si muoveva tra una casetta e l'altra e proseguiamo parlando di un altro tema molto importante ovvero quello che riguarda gli asili la regione marche ha chiuso il 2023 annunciando un maxi contributo di 4 milioni di euro a favorire l'accesso dei bambini ai servizi educativi 0 6 anni un passo avanti nelle politiche educative della famiglia come ci ha sottolineato l'assessora del comune di pesero camilla murgia la quale ora ha richiesto tempestività per quanto riguarda l'arrivo di questi fondi nella disponibilità degli enti locali la regione ha annunciato a fine anno come regalo per questo 2024 lo stanziamento di 4 milioni di euro per la regione marche per la fascia 0 6 è un'ottima notizia sono anni che con la maggioranza e anche con i consiglieri regionali portiamo avanti questo appello di supporto da parte della regione come fanno tante regioni virtuose in italia nella fascia 0 6 i bisogni delle famiglie sono cambiati lo sappiamo dal covid in poi c'è una maggiore richiesta di nidi nello specifico per la fascia 0 3 e su questo mi sono esposta più volte nella nel capire insieme alle famiglie insieme al coordinamento pedagogico gli uffici e l'amministrazione come poter incrementare questa offerta sicuramente questi fondi in più che per la città di pesaro dovrebbero aggirarsi sui 160 170 mila euro verranno impiegati come promesso nella creazione di nuovi posti nido e nella ottimizzazione dei servizi che già abbiamo sono fondi che sono già vincolati a determinati utilizzi che sono la formazione che sono il personale che sono l'adattamento degli ambienti di apprendimento e così noi faremo già a bilancio con le finanze del comune quest'anno abbiamo messo in programma per il prossimo anno scolastico 15 posti per la fascia 0 3 nello specifico due tre anni con un'apertura di una sezione primavera un servizio che continuiamo a potenziare abbiamo continuato a potenziare se la regione manterrà questa promessa oggi a bilancio c'è zero ma noi siamo fiduciosi che l'assessora biondi e il presidente acquaroli possano fornire a noi degli uffici a noi amministratori la possibilità e la tempistica di programmare questi servizi perché poi le iscrizioni è vero che la scuola partirà a settembre 2024 ma per il mondo scolastico siamo già in organizzazione molto fattiva di quello che sarà l'offerta del prossimo anno scolastico quindi mi auguro nella tempestività mi auguro che ci sia la possibilità di incrementare questo finanziamento nei prossimi anni proprio come segnale che avevamo già segnalato di un bisogno crescente di una fiducia dei servizi nei servizi educativi da parte delle famiglie del nostro territorio salviamo l'edificio della provincia è stato questo il tema della conferenza stampa andata in scena questa mattina è organizzata da quattro architetti del territorio lo scopo è quello di lanciare un appello per salvare gli edifici di viale gramsci vediamo il servizio oggi siamo qui perché siamo quattro architetti achille paianini clara tarca paolo marconi e io sono alessandro cecarelli quattro professionisti ma preoccupati della sorte di un importante edificio quale l'edificio del palazzo della provincia in quanto rappresenta un esempio molto corretto dell'architettura moderna locale ora l'idea di trasformarlo è possibile ma occorrono una serie di attenzioni ci sembra che nel dibattito politico e amministrativo che c'è questo tema non venga affrontato e noi siamo qui oggi proprio per ribadire questo attenzione trasformare questo edificio rischiamo di snaturarlo secondo la variante richiesta al piano regolatore che prevederebbe la totale trasformazione in residenza commerciale e servizi questo porterebbe questo edificio a cambiare e a non mantenere più le sue caratteristiche avete già parlato con i diretti interessati in questo caso no un dibattito non c'è stato se non attraverso la stampa abbiamo visto anche sollecitato dai giornalisti dalla stampa il sindaco Matteo Ricci che ha messo là una proposta di destinare l'edificio a un università e questa è una delle soluzioni che noi condividiamo pienamente crediamo proprio che la destinazione più corretta per quell'edificio sia proprio una destinazione pubblica e l'università in particolare sarebbe perfetta dal vostro punto di vista la soluzione peggiore sarebbe quella della demolizione dell'edificio anche perché comunque dal punto di vista storico lo possiamo così definire anche un monumento della città esattamente la demolizione è la cosa più assurda che possiamo pensare proprio perché ormai l'edificio è entrato a far parte dell'immaginario dell'identità della nostra città e perché ripeto rappresenta un ottimo esempio un monumento di architettura moderna che ormai in tutta italia ma in tutto il mondo si sta procedendo a conservare a tutelare la la sovrintendenza ha messo delle prescrizioni nella trasformazione ha fatto ciò che poteva fare ma ovviamente questo non è sufficiente a conservare in tutto l'edificio come consigliere comunale credo che sia importante da un lato raccogliere quello che è il contributo di architetti e di persone esperte e formate su questi argomenti e dall'altro anche quello di vigilare su quella che è l'operazione che riguarda la sede della provincia in questo momento ancora non abbiamo certezze di alcun tipo su quello che sarà l'iter urbanistico e quella che sarà la visione di questo luogo è un luogo importante che è importante salvaguardare è un luogo di pregio artistico architettonico ma soprattutto quello che ci interessa è quello di capire quale sarà il percorso che verrà fatto su questo edificio perché ad ora non si sa sostanzialmente nulla non si hanno garanzie su come verrà trattato l'attuale edificio e su dove andrà a finire il prossimo edificio ecco come consigliere comunale cercheremo di vigilare su tutto questo percorso per fare in modo per esempio che non succeda la stessa cosa che è successa all'ex bramante quindi una vendita che ha portato sostanzialmente a un immobile bloccato e fermo in degrado in pieno centro storico e domani 5 gennaio partiranno i sempre tanto attesi saldi invernali secondo il centro studi di confcommercio si prevede un giro d'affari in crescita rispetto alla passata stagione del 5 per cento con una spesa media per ogni famiglia stimata sui 290 euro circa è un acquisto medio a persona che si attesta circa 130 euro vediamo il servizio il 5 gennaio partiranno i saldi in italia anche per la nostra provincia confcommercio marchio nord ha fatto una stima di quello che sarà la spesa sia del cittadino medio che della famiglia come vede lei direttore questo periodo quello dei saldi che comunque risente anche un po di un inverno che anche livello di temperatura è partito un po più a rilento sì il problema dei saldi tanto troppo l'anticipo con cui vengono organizzati fortuna voluto che negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza da parte delle regioni di dover iniziare insieme in passato questo non avveniva per cui c'era la fuga dei consumatori che ad esempio dalle marche andavano in Emilia Romagna che naturalmente anticipava prima per prendersi anche i consumatori pesaresi l'uniformità dell'inizio dei saldi è importantissimo ma è altrettanto importante posteciparli cioè non è pensabile normalmente e poi anche in questi tempi di cambiamenti climatici con l'inverno che ancora non è arrivato già fare i saldi di fine stagione cioè di una stagione che ancora non è arrivata non è iniziata c'è un tentativo nella provincia autonoma di Bolzano di differenziare l'inizio dei saldi tra le città e le montagne proprio per andare incontro al cambiamento stagionale la Confcommercio prevede un dato positivo per questi saldi circa 130-140 euro a persona e quindi noi confidiamo che comunque i saldi possono essere una occasione per le imprese commerciali di vicinato sperando che insomma i consumatori non spendano tutti i soldi sui grandi player del commercio online o nella grande distribuzione cioè i saldi debbono essere come lo erano una volta uno strumento per consentire al piccolo commerciante, al negozio di vicinato di smaltire si diceva una volta le rimanenze e quindi non farsi carico dei costi del magazzino approfittiamo dell'occasione per invitare anche gli ascoltatori di Rossini TV a consumare ed acquistare nei negozi di vicinato, nei quartieri, nei centri storici, nei borghi della nostra provincia perché la vita e la sopravvivenza delle nostre città dipende anche dalle abitudini di consumo e dalle modalità di consumo dei cittadini Rispetto all'anno precedente ci si aspetta un segno positivo? Si aspetta un segno positivo, già lo dicevamo in occasione delle festività natalizie sia per quanto riguarda il turismo che per quanto riguarda il commercio c'è stato un aumento di circa a livello nazionale, mezzo miliardo di euro nelle tredicesime e anche un aumento dell'occupazione, almeno questi sono i dati ufficiali INPS e ISTAT che ovviamente mettono in circolo più risorse è aumentata anche la fiducia da parte dei consumatori mentre è in calo la fiducia da parte delle imprese peraltro e quello che noi auspichiamo è che questo 2024 adesso inizia con i saldi ma che con il movimento turistico che nel 2023 ha salvato la ricchezza nazionale lo ricordiamo con il calo delle esportazioni con il calo della produzione industriale e manifatturiera l'unico settore che ha salvato il PIL italiano è stato il turismo confidiamo che questo possa avvenire anche nel 2024 E ora il consueto spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero di WhatsApp 370-366-7210 Questa mattina un nostro telespettatore ci ha inviato queste due foto che ritraggono il sottopassaggio di Via Milano come si può visivamente notare dalle immagini il cittadino in questione richiede una sistemazione per quanto riguarda la gestione del verde urbano con le piante che incolte sono diventate talmente grandi da non permettere nemmeno più la corretta visione dei murales che non molto tempo fa erano stati fatti fare dal comune proprio per abbellire i sottopassaggi della città In occasione del ventesimo anniversario della morte dell'artista gabiccese Guerrino Bardeggia Gabicce Mare, la sua cittadina, accoglie presso la sala consigliare del Palazzo Comunale una piccola collezione di opere appartenenti alla sua fase artistica più matura Si tratta di 5 tavole che misurano 120 x 150 cm realizzate con tecnica mista a collage L'inaugurazione della mostra dal titolo Rosso e vita, simbiosi di natura e pathos nella produzione a collage di Guerrino Bardeggia si terrà domani, venerdì 5 gennaio alle 16.30 Le opere saranno esposte fino al 14 gennaio con la possibilità di visitarle tutti i giorni dalle 16 alle 18 Inaugurata il 7 dicembre ma rimarrà aperta al pubblico fino al 12 gennaio è invece la mostra Costruttori di pace organizzata con il curatore, il professor Giorgio Tabanelli presso la sala del Consiglio dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo tratta con il suo percorso espositivo fatto di fotografie, libri, riviste e documenti di sette personaggi che sono stati nella storia veri costruttori di pace come Gandhi, Alessandro Serpieri Carlo Bo, rettore dell'Università di Urbino Giorgio Lapira, Ernesto Balducci Don Lorenzo Milani e Valerio Volpini La mostra è visitabile tutti i giorni dal lunedì al venerdì al mattino mentre il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18 E sabato 6 gennaio nel Duomo di Pesaro dalle ore 16 torna il tradizionale appuntamento con il concerto dell'Epifania con il coro San Carlo di Pesaro il programma sarà come sempre dedicato alla musica sacra di varie epoche con una particolare attenzione alle voci come raccontato dal direttore artistico del coro il maestro Claudio Colapinto non mancheranno pagine molto note come ad esempio l'Ave Verum Corpus di Mozart o l'Alleluia di Handel fino all'omaggio a Rossini con la sua famosa Ave Maria che nell'anno di Capitale della Cultura non poteva assolutamente mancare il concerto che avrà inizio come detto alle ore 16 vedrà l'apertura delle porte del Duomo dalle 15 e 30 serata da non perdere quella di sabato 6 gennaio al Palamegabox in occasione della partita tra Megabox Vallefoglia e Volley Bergamo di scena alle 20 e 30 in precedenza a partire dalle 19 circa ci sarà il passaggio di consegne anche in ambito sportivo tra le due città capitali italiane della cultura Bergamo assieme a Brescia capitale per il 2023 passerà di fatto il testimone a Pesaro per il 2024 vediamo il servizio importante dal punto di vista simbolico è importante l'incontro l'incontro di tanto isè tra la Megabox e Bergamo l'incontro dell'incontrarsi ovviamente perché sono non solo due squadre ma due città, due comunità una che ha appena vissuto il viaggio straordinario della capitale della cultura e noi che ci apprestiamo a viverlo a 360 gradi a partire anche dallo sport che come abbiamo detto più volte non solo è cultura ma è cultura in particolar modo a Pesaro è cultura dello sport e di incontrarsi e di stare insieme in più in questa giornata così importante che tra l'altro anche coincide con l'Epifania e saranno anche molti momenti tutto sarà oltre allo spettacolo dello sport sarà uno spettacolo realizzato e costruito proprio sulla giornata dedicato non solo ai più piccoli insomma dove sarà tanta musica con Cari Savichi con Intermezzi soprattutto ci sarà anche diciamo una finestra RAI importante in cui oltre alla partita per insomma 10 minuti potremo raccontare la capitale Bergamo racconterà se stessa e si creerà questo ponte naturale quindi siamo molto contenti di questa opportunità per cui vogliamo ringraziare innanzitutto la Megabox e il suo presidente e anche la banca di Pesaro che è vicina a questa iniziativa Pesaro 2024 è la banca di Pesaro necessariamente deve partecipare a questo evento ed è anche noi di essere parte dei protagonisti e non si può partire che meglio parlando di sport parlando di uno sport che sta prendendo sempre più piede sta prendendo sempre più interesse da parte della città e soprattutto gestito da persone veramente serie poi penso che anche a livello sportivo la squadra vada discretamente bene quindi noi non possiamo il 3 che essere che contenti però l'importante è quello che dico veniamo da anni abbastanza difficili dovuti prima a una crisi un evento purtroppo sanitario importante poi ci sono stati anche degli eventi macroeconomici che hanno segnato in maniera importante la vita economica del paese comunque ancora una volta si è visto che l'Italia funziona e soprattutto il nostro territorio dove noi operiamo funziona veramente bene attraverso questa diciamo manifestazione sportiva ecco noi vogliamo dare un segnale ecco di attaccamento al territorio ecco e quindi abbiamo organizzato questo evento per far sì che comunque diamo il nostro piccolo contributo ecco a Pesaro e alla diciamo conoscenza dell'evento che avrà a disposizione per il 2024 per far sì conoscere a tutto il mondo intero sicuramente lo sport in questo momento non voglio parlare del mio sport della mia passione al paravolo penso che sia un valore aggiunto alla formazione dei giovani rispetto ma anche non solo dei giovani ma anche di chi ci viene a vedere perché comunque non ho mai visto una partita di pallavolo che degeneri tra il pubblico e i spettatori e questo ci tengo a dirlo che comunque il nostro sport è uno sport sano ecco e ne sono entusiasta di farne parte la vicinanza al territorio per noi è proprio il nostro cavallo di battaglia perché una banca una BCC una banca del territorio deve presidiare il proprio territorio farlo crescere dare i propri servizi essere a fianco alle famiglie alle imprese quindi è un territorio per noi molto importante quello di Pesaro Vallefoglia i comuni limitrofi sono i comuni in cui la banca opera e di conseguenza sta crescendo sta crescendo bene siamo soddisfatti anche dell'annualità che abbiamo appena chiuso ovviamente una banca del territorio non fa dividendi e di conseguenza deve riversare buona parte a parte accantonare a patrimonio perché se non si patrimonializza non riesce poi a fare le proprie attività ma una parte consistente viene sempre devoluta in beneficenza in sponsorizzazioni in attività per il territorio di conseguenza è un territorio che cresce fa crescere anche la banca in cui opera come nello sport e poi quest'anno con Pesaro Città della Cultura un anno importante cercheremo di essere a parte che saremo partner di questa bellissima iniziativa di cui diamo merito all'amministrazione comunale per aver ottenuto questo importante riconoscimento e questa annualità sarà per noi sfidante e saremo pronti ad accogliere questa sfida nel migliore dei modi e concludiamo il nostro telegiornale parlando ancora di sport l'Ital Service Pesaro Calcio a 5 abbraccia il 2024 regalandosi un giovane di grande prospettiva si tratta di Mohamed Bollou Zirari semplicemente conosciuto come Moabz il marocchino classe 2005 neogiocatore biancorosso vanta anche il passaporto spagnolo essendo cresciuto e sbocciato nel futsal proprio in Spagna arriva in prestito dal Val de Penas uno dei principali club della Liga Nazionale la Serie A spagnola il suo contratto lo legherà ai biancorossi fino al 30 giugno 2024 ma l'Ital Service potrà comunque valutare il diritto di riscatto al termine della stagione e prima di concludere con i saluti un'occhiata ai programmi della serata vediamo che in prima serata questa sera abbiamo l'appuntamento con la Sinfonia di Maestri un programma in onda il giovedì alle 21.20 con replica alle 23.15 ospiti questa sera Francesco Marconi prima tromba dell'Orchestra Sinfonica Rossini e Marco Torsani primo clarinetto dell'Orchestra Sinfonica Rossini ci parleranno del concerto di giovedì prossimo giovedì 11 gennaio Beethoven opera prima ciclo Beethoven il concerto di cui vi stiamo mostrando la locandina ricordiamo anche che essendo questo periodo festivo la trasmissione insieme a Canestro è stata in pausa ed è ancora in pausa torneremo in diretta con Elisabetta Ferri e con tutti i personaggi del mondo del basket giovedì 18 gennaio alle 21.20 l'informazione torna domattina tornerò io personalmente domattina come vedete anche nella grafica alle 7.20 con Buongiorno Rossini la rassegna stampa dei quotidiani locali che va in onda alle 7.20 in diretta anche live sulla pagina Facebook di Rossini TV e poi in replica alle 8.20 alle 12.20 14.20 18.20 e adesso abbiamo veramente concluso per cui vi ringrazio per aver seguito il nostro TG vi do appuntamento a tutti gli altri momenti informativi e anche a tutti gli altri appuntamenti della nostra emittente invitandovi come sempre a restare sempre sintonizzati sul canale 80 di Rossini TV di Rossini TV